Ciao a tutti, un bacione enorme dalla vostra amica Allora, album tra le mani Mattita, boh, ma tutto è pronto già di là nella mia postazione e siamo appunto pronti a seguire la vostra amica col disegno con voi numero 14 Seguitemi, ciao! Eccoci qua Allora, video, disegno con voi Vi dico che disegno nelle mie bamboline quelle preferite della Gorgion, della Santoro ma non vi dico quale, la scopriremo insieme ok, meglio che vado a disegnare sta zitta, nica Allora, iniziamo 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti